Erano circa le ore 23 quando tre diversi incendi nella serata di ieri ad Agropoli hanno interessato la zona delle Ginestre, lo svincolo Agropoli Sud e la via del mare, Agropoli Castellabate, dove sono state appiccate alcune balle di fieno. Providenziale è stato l'uso dell'estintore della protezione civile di Agropoli che aveva a bordo del mezzo che ha consentito lo spegnimento delle fiamme nei pressi di un contatore Enel che era andato a fuoco. Sono intervenuti sul posto nei vari roghi i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e Vallo della Lucania. Le operazioni di spegnimento sono terminate intorno alle ore 1.30. Fortunatamente non si registrano danni a persone e ad abitazioni. La matrice dei roghi potrebbe essere di natura dolosa.